I contagi aumentano a ururi. Nella giornata di ieri si sono registrati 56 positivi al test molecolare, 39 a quello antigenico. Si attende il bollettino di oggi. Continuano le giornate di screening gratuita sulla popolazione promossa dall'amministrazione comunale. Da pochi giorni sarà attivato il servizio record in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, non solo per aiutare i cittadini che si trovano in isolamento, consegnando farmaci a domicilio e generi alimentari, ma il servizio comprende anche il trasporto dei cittadini nei centri vaccinali. Tutti i cittadini che sono risultati positivi, ha detto il vice sindaco Emiliano Plescia, presentano sintomi lievi perché tutti vaccinati. Un dato da non trascurare, ha continuato Plescia, per far capire che senza vaccini oggi in paese avremmo contato un numero elevato di decessi e ricoveri. Per contrastare questa ondata epidemiologica con l'aumento dei casi esponenziali abbiamo programmato tre giornate di screening. La prima è il 20 dicembre, la seconda è il 29 dicembre e la terza domani 5 gennaio. Abbiamo attivato grazie all'Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco e anche grazie alla sezione di roce rossa qui, che è presente qui a Guri, il servizio record. Praticamente consegneremo gli alimenti, aiuteremo le persone che in isolamento non hanno la possibilità di essere aiutate per raggiungere i centri vaccinali e anche la consegna dei farmaci. Però devo dire che tutta l'amministrazione, i colleghi amministratori, così anche come sindaco attualmente in quarantena, hanno collaborato e stiamo collaborando per far funzionare al meglio la macchina amministrativa, ma anche per dare supporto a tutti i cittadini. E' tanta la paura tra le persone in paese che però continuano a seguire le regole che tutti ormai conosciamo, distanziamento e mascherine. Quanti tamponi avete fatto in questi giorni a Aururi? Sicuramente più di un centinaio al giorno. Purtroppo i casi di positività ci sono ogni giorno. C'è molta paura anche perché comunque più stanno e più aumentano e comunque la paura ci sta, soprattutto per i bambini, per gli anziani, per chi comunque è più debole e ci sta più insomma paura per questo. Il problema è che comunque si devono rispettare le regole, bisogna rispettarle in modo giusto, dobbiamo ragionarci sulle cose prima di affrontare qualsiasi tipo di situazione.